Una patente di credibilità, Adolfo Foggetti se l'era giudicata confessando il tradimento di un amico, Luca Bruni, erede designato al vertice dell'omonima famiglia Cosentina Andranghetista, che fu attirato in un'imboscata, assassinato e fatto sparire. Il tradimento segnò la fine della dinastia dei Bella Bella e l'ascesa di Maurizio Rango alla testa del clan Rango Zingari. Accusarsi e accusare, poi riscontri oggettivi ed individualizzanti. Funziona così coi pentiti affinché siano attendibili. Oggi Adolfo, come gli altri Foggetti passati nei ruoli di Gola Profonda, torna ad autoaccusarsi ed accusa. Ipotesi di voto di scambio e comparaggi con la politica abruzzia. L'ex sindaco di Castrolibero e oggi consigliere regionale Orlandino Greco, i primi cittadini di Rende e Cosenza, Marcello Manna e Mario Chiuto, quindi Enzo Paolini, tutti finiscono in una bufera mediatico-giudiziaria che parte dalle rivelazioni del collaboratore. Tutti gridano alla menzogna, all'invenzione. I riscontri al momento non ci sono, lo stato delle indagini a riguardo è un'incognita. La credibilità a un pentito deve guadagnarsela di volta in volta.